I Fugliar Morgani è chiamato a riscatto dopo le due sconfitti e tre giorni raccolte nella precedente settimana tra Divina e Seravezza. L'avversario è quel Ghivizzano che la domenica prima ha trovato la sua prima vittoria di stagione, ma i biancorossi di casa mettono subito le cose in chiaro. Gersos mette al centro il pallone del 1-0, che è verde a carezza, ma che invece Amaducci tramuta in oro. Lo stesso Amaducci va vicinissimo alla doppietta personale con la sfera che si stampa sul legno alla destra di Nucci. Il Ghiviborgo va vicinissimo al pareggio, ma qui Marchezza e Tranni si disturbano al momento dell'atto finale. Invece più tardi, da attraversione di Riccioni, arriva il colpo di testa di Aloy, terminato alto. Nella ripresa inizia il pera show, dalla bandierina all'attaccante arriva al tiro, ma calcia malamente la sfera. Ma lo stesso Bomber ha iniziato a chiudere l'azione del 2-0, timbrando la fama di Bomber di razza che lo rappresenta. 2-0 ai fini dei giochi, con i Folli che sfiora addirittura i tris con Gersos che supo un'ottima occasione da posizione favorevole. E con Pera che timbra il secondo legno di giornata non trovando la personale doppietta, né mezzo una comoda presa di Degori su una girata del neoentrato Belluomini. Termina qui la gara con i Folli che torna al successo.